buona giornata con l'almanacco barba nera oggi è il 29 dicembre si festeggia san tommaso becchè il nome tommaso deriva dall'aramaico toma e dal greco e latino tomas ha il significato di gemello dice il proverbio a santo me le giornate si allungano di quanto il gallo alza il pie sono nati oggi john boy cristiano de andrè giudlo il 29 dicembre 1891 thomas edison brevetta la radio con il record di 1093 brevetti a suo nome edison fu uno dei più prolifici inventori del suo tempo il 29 dicembre 1983 nozze a sorpresa nel principato di monaco la principessa caroline sposa civilmente l'italiano stefano casirati infine il 29 dicembre 1993 entra in vigore la convenzione internazionale sulla biodiversità l'accordo internazionale che si prefigge la salvaguardia della diversità e l'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche ad oggi la convenzione è stata ratificata da 179 paesi e dalla comunità europea epicuro ha detto l'uomo sereno procura serenità a sé e agli altri arrivederci da barba nera dal 1762 l'almanacco più amato d'italia